Allora, prima richiesta di sban Giovanni Ho chiesto il ban e mi è stato dato ora Posso tornare ad essere Ivano? Fammi leggere quello che hai fatto Che merda, alza sta musica Basta non mangiare pollo Ludo Panetti, sono Ivano Fammi provare il bruto della ludopassia Mi baneresti il cortesia Ok Ok, qua abbiamo un innocente Ma io sto scomodo qua, vaffanculo Aspetta, faccio così Oh, molto meglio Allora, ragazzo lo rimettiamo Perché sembra un bravo ragazzo Motivi per la riammazione Sei bravo ragazzo Invia la riammissione Ok, così funziona, giusto? Perfetto, ci abbiamo Hermenegli dos varioni Oh, perché non sono sbannato? Lucinina in taschietto in the diamond It's Friday night Ok, ok, ok Questo sei stato bannato perché hai spammato Quella roba là E quindi probabilmente sei stato bannato Ha t'ho bannato io proprio la mia mano Lo sbanniamo? Lo sbanniamo il ragazzo? Posso parlare così? Il ragazzo forse va sbannato Però posso mettere Inferi Music Hell Music Il ragazzo qui sembra Non aver fatto niente Per dunque Lo riammettiamo Nel mondo terreno Bravo Bravo Ragazzo Via riammissione Abbiamo di Ecobad Antuono Ecobad Antuono per lo stesso motivo Causa spam È stato bannato dalla mia mano In seguito Dalla mano di Einflicker Scusa Ho sbagliato Volevo ringraziarti Per avermi fatto ridere In un periodo brutto per me E soprattutto mi hai dato la forza Per andare avanti Grazie poi Grazie a te Hai una segretta Vediamo un attimo cosa è scritto In precedenza Vedi altra Scam Bomba Stream italiana Sei uno che spamma A te piace spammare A noi non piacciono gli spammini Ma A questo punto Possiamo dire che Diego Abad Antuono Può essere riammesso Al mondo terreno Bravo Ragazzo Non spammerino Via visione Abbiamo Eagle Per favore posso avere un'altra possibilità Non sapevo Avevo visto Omi Spammare questo E l'ho fatto anche io Abbiamo qui un altro spammerino Lo spammerino Andiamo a vedere un attimo I suoi commenti precedenti E vedo che Ne ha soltanto 33 Abbassa il volume Bassa a sinistra Emoji Emoji Vedo che tu Non hai scritto nient'altro Nella mia chat Se non uno spam Guidato da Omi Adol Ma il ragazzo chiede scusa E forse gli va dato Un'altra possibilità Cosa facciamo Il diavolo Forse meriti ancora Di essere Ciao Simone Bella barba Lino in lino in lino in Grazie del tuo affetto Sei dolce come un papà Io per te Sempre sarò Per te Sarò sempre qua Alexa non farlo mai più Bene ragazzi A questo punto A questo punto Questo ragazzo Forse Merita un'altra possibilità Perciò Riammettiamo anche Questo ragazzo Perché mi sembra Un buono Un buono E i buoni Qui non ce li vogliamo Ragazzo bravo Ragazzo bravo Ragazzo bravo Invia e remissione Abbiamo Diego Abbiamo uno dei miei casi preferiti Lo spam degli altri canali Ragazzi Che non è al sole di quattro mesi Luca tocca Console streamer Console stream Il ragazzo verrà rifiutato O riammesso Questo lo dicete E voi Ciao No spamerino Lindy Twitch Chiedo scusa Della mia maledicazione Ti dubbi panetti Ho fatto un errore Cuoricino 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 Vediamo cosa è scritto Carica precedenti Vediamo 808 Che sbordo Vedo che a te piace L'automatia Greg Willen Bang bang Io anche io Ma è la play Tutta a posta Anche a voi Sta la calabocità Una vera unita Una cucina Che bacia Vedo che qui Hai spammato Una mail Raga su paypal Basta pubblicità Fia sei un grande Aiuto Che scam Me l'ho scammata Panetti out Panetti out Mi dissocio F word Col dito Mi sa chiamare Come mai Live così Immorente Cos'è questo Cos'era questo In origine Un cazzo Delle tette Cos'era A quanto fatto Steam Elements Ti ha bannato Per poi essere bannato Direttamente da Marco Cori Ingiustiziere Chiedo scusa Della mia maleducazione Lui è cattivo Lo riammettiamo O non lo riammettiamo Cosa facciamo ragazzi Potete decidere voi Lo riammettiamo O non lo riammettiamo Lo riammettiamo Arrogo 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 a te piace a te piace cosa top 10 cosa cosa quando di quando ho visto in borghe sito mio milanese in borghe sito dis me o te si sente l'altra parte ma tu hai fatto una cosa che è imperdonabile signor di twitch io mi disallinio da questo ciao panetti stavo pensando quando apri un onlyfans e sono 13 mai penso mai penso mai penso mai aprirò un onlyfans forse ci faccio qualcosa di simpatico non il cazzo quelle cose simpatico pubblico dei contenuti interessanti cosa facciamo ragazzi non può averlo scritto non può una persona di tale malvagità forse forse dico forse non merita la riammissione ma questa richiesta probabilmente verrà accettata io confido in questo ragazzo il naox che non ripetami più questo sbaglio ciao simo adesso stai a fa il coglione ma sappi che ho passato un anno fantastico con te grazie grazie per l'anno sono uno sconosciuto ma se hai riuscito ad allietare le mie giornate in questo ultimo anno molto strano e un po merdoso tvb un abbraccio faccina sorridente grazie 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 a te per l'anno bellissimo paul grazie mille veramente troppo buono va bene va bene così lo riammettiamo e scriviamo qualora vip al ragazzo come si scrive qualora qualora vabbè cancelliamo dal momento in cui su ripeterai l'errore madornale ultimamente ti sto imitando e mando foto dell'anno in giro però non sono sicuro se non farlo non farlo verrai spedito per l'eternità simon so sei sono passati super veloci siamo a mezzo anno ragazzo buono inviare in missione sei stato riammesso bravo ragazzo sum signori condimio dolce e amatore felice di darle tutti i miei soldi di questo mese ne faccio a buon uso la prego ecco qualsiasi mesi tica ragazzi 7 scusate mod e scusa panetti io non so quello che ha fatto questo ragazzo la cronologia è soltanto di uno al tuo primo messaggio sei stato bannato per questo form e meriti di rimanere dove ti trovi maghi di cosa ne pensate questa la ciao la chat di deciderà per lui, al rogo, paradiso o inferno, paradiso o inferno, paradiso o inferno, da calcolare anche il nome, si un signori a me non comincia dopo, inferno, inferno, benissimo, perisci, 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 vahhhhhh, vieni ferro, Tony, uno, tre, tre, quattro, due, quattro, no, scusate ragazzi, oh, oh, bellasimo, ehi, passiamo un po' inferno, top 3, a me, top persona, essi godee, minore di tre cazzi, essi godee, minore di tre cazzi, Mike, grazie mille per i quattro mesi, ricordo grazie mille, no, scusate ragazzi, innegabile l'errore commesso e non giustificabile, il mio fratellino si diverte scrivendo ste cazzate, mi ero anche subato tempo fa e poi io bene assino, colpa mia, dovevo starci dietro, scusate ancora, pazzia, 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 via e son rotto il pisello, pure che comunque scrivbi da tempo al cielo, ho registrato cicalone, è morto ciccio gamer, 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 Si sente, vive il Trentino, fatemi sentire il misteri generato venti, si è piaciuto. Forse merita... ...la mano... ...demoniaca... ...segnala. Come potete vedere qui, io ho un tasto. Qui vi ho un tasto. Minacci, danni o rischi per convinci dall'odio, molestia ed offende. Perisci perisci per sempreiY. Cos'è ? potrei tiri danno ovvio... ha detto la parola finale si po porca madonna è la seconda volta che te lo chiedo devo giocara la schedina mi dai 5 numeri da 1 a 55 dopo che se vinco mi ficco un fiascone su per il culo Ma non ho voglia di darti le cose da schedina, ma che cazzo?